Noi abbiamo appena aderito il programma onboarding vincente perché credo che sia opportuno che un broker dedichi il suo tempo al reclutamento e al mantenimento. Ho preferito delegare la formazione ad una persona esperta. C'era bisogno di un programma formativo incentrato sull'acquisizione da parte dei fuori settore e questo percorso prevede dei compiti e dei test di verifica e credo che sia utile provare a rendere subito produttivi i nuovi agenti e i fuori settore. Per questo noi abbiamo aderito con molta soddisfazione. Durante una telefonata chiesi proprio questo a Simone Rossi, qualcosa per i fuori settore.